Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, scende ufficialmente in campo per candidarsi a presidente della provincia di Pescara. Questa mattina l'esponente della Lega nel corso di una conferenza stampa ha illustrato i motivi che lo hanno spinto a candidarsi alla guida dell'ente e a succedere ad Antonio Zaffiri. Ho dato la mia disponibilità, sono stati poi partiti a convergere sulla mia persona, ovviamente per questo li ringrazio, per quel che mi riguarda metterò, infonderò tutta l'esperienza acquisita in questi anni e non solo, anche la mia passione per la politica e per il territorio, e l'amore per il territorio che sono la leva che da anni muove la mia azione politica a Montesilvano e in questo caso allagherei il raggio d'azione su tutta la provincia. De Martinis ha poi rassicurato i cittadini di Montesilvano spiegando che in caso di elezione l'impegno alla guida di quella che oggi è la quinta città d'Abruzzo sarà sempre lo stesso. Ho rassicurato i miei concittadini del fatto che nonostante questo doppio ruolo non abbandonare assolutamente la mia città, una città sulla quale tengo tanto, la quale sono innamorato, sulla quale abbiamo iniziato un percorso che intendo assolutamente continuare grazie a una squadra di governo che mi supporta e sono certo saprà dare insieme a me quello che necessita ai cittadini e al territorio.